La famiglia Barberini che aveva tra i suoi esponenti più importanti Papa Urbano VIII attraverso l'architettura e l'apparato decorativo del suo fastosissimo palazzo intendeva celebrare la gloria raggiunta con l'elezione di un popolo membro al Soglio Pontificio. L'impresa inizialmente fu affidata all'architetto Carlo Maderno e la decorazione della sala principale con il trionfo della divina sapienza venne dipinta da Andrea Sacchi. Nel 1629 Maderno morì e il completamento dei lavori venne affidato ai più promettenti artisti della scena romana, in particolare Pietro da Cortona Borromini. A Pietro da Cortona, la cui esuberanza creativa si colloca agli antipodi del misurato classicismo di Andrea Sacchi, sono richiesti diversi interventi, come la realizzazione del teatro e della decorazione della sala da ballo. Nello stesso palazzo si trovano così a diretto confronto sia le opere del classicista Sacchi sia le dirompenti novità di Pietro da Cortona. Pietro Berrettini, nativo della Toscana Cortona, da cui prese poi il nome, ricevette la sua prima educazione artistica in ambito familiare e a 13 anni, nel 1609, divenne allievo di un pittore fiorentino che lo portò con sé a Roma. Quando nel 1623 Maffeo Barberini fu eletto Papa, Pietro da Cortona divenne il suo protetto e si assicurò da quel momento fama e successo. Nel 1625 Papa Urbano ottavo gli commissionò l'affresco per la realizzazione, che andò dal 1633 al 1639, della volta del grande salone del palazzo di Barberini, intitolato Il trionfo della Divina Providenza. Il soggetto del trionfo della Divina Providenza fu elaborato dal poeta Francesco Bracciolini per celebrare la gloria del papato e contestualmente di la famiglia Barberini. Il programma ecolografico si dispiega su una volta enorme, che ha una superficie di 600 metri quadri, in cui il tema avrebbe rischiato di disperdersi se Pietro da Cortona non avesse saputo risolvere questo grande problema suddividendola a grande volta in cinque zone, articolate fra strutture architettoniche con una specie di pergola aperta su ogni lato. Al centro e sullo sfondo della volta si colloca i suoi soggetti principali. La Divina Providenza e le api, che sono l'emblema della famiglia Barberini, inquadrate dal cornicione della finta architettura. Intorno alle api una corona d'alloro, che è simbolo di gloria, è sorretta in volo dalla personificazione delle virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, e dalla città di Roma. Accanto alla personificazione della Divina Providenza, sorge da una nuvola debordante dalla struttura architettonica circondata da un brulicare di altre figure allegoriche. Sui lati, tra le nuvole e le fronde di alberi, si distribuisce una folla di personaggi cui corpi si confondono tra le figure dei finti stucchi che decorano la finta architettura. Pietro da Cortona non suddivide le scene, ma crea uno spazio aperto, sempre articolato, attorno a una struttura architettonica, ma in modo che questa appaia come una prosecuzione dello spazio reale, aperto sul cielo. Fedele al modello carraccesco, invece, l'animazione dell'insieme, che qui, come nella galleria farnese, contagia anche le figure dei finti stucchi. Ma l'animazione e l'immunionismo dipinti dall'artista superano di slancio quelli del maestro Emiliano. Così, già l'idea di fondere le insegne del casato, cioè le api, nella composizione, trattandole come un elemento vivo e naturale, è del tutto inedita. Ma è soprattutto la fastosa vivacità dei colori e il turbinio delle figure, fuori e dentro le finte architetture, ad animare la scena, coinvolgendo l'osservatore in uno spettacolo di gioia e di gloria. In questa visione barocca del mondo, la vita e la gioia esplodono in un vortice generale nel quale realtà e finzione si confondono e i punti focali si moltiplicano. La spartizione dei soggetti, svolta con grande naturalezza, consente comunque di orientarsi, garantendo la massima leggibilità e comprensione del messaggio fino all'ultima persuasione barocca. Pietro da Cortona, nel suo trattato della pittura e scultura, redatto con la collaborazione del padre gesuita Domenico Tonelli e pubblicato nel 1652, affermò l'opportunità di animare sempre le scene pittoriche con molti personaggi. Come detto, il soggetto dell'Apoteosi della Divina Providenza venne redatto dal poeta Francesco Bracciolini, un erudito letterato di origini pistoiesi, vicino proprio alla famiglia Barberini. Il Bracciolini aveva scritto un poema allegorico intitolato L'elezione di Papa Urbano VIII, subito dopo l'elezione del Pontefice. Quest'opera letteraria venne poi edita con modifiche suggerite proprio dallo stesso Papa nel 1628. Il vero significato dunque del trionfo della Divina Providenza è questo. Maffeo Barberini, il Papa, noto per le sue doti di poeta raffinatissimo, era stato scelto dalla Divina Providenza per rappresentarla in terra e pertanto era degno dell'immortalità.